Queste frati hanno delle costruzioni proprie che bisogna seguire. Per esempio, la prima che vedremo è la concessiva. La concessiva si costruisce con por o por mui, più l'aggettivo o l'avverbio, più che, più il verbo al succuntivo. Allora, io posso utilizzare il presente succuntivo per esprimere minor certezza o rilevanza. La cosa interessante è che posso utilizzare il presente succuntivo anche senza la costruzione di poco prima che vi ho spiegato, quindi anche senza por o por mui. Vi faccio un esempio. Auque este infadado non pierde la calma. Sebbene sei arrabbiato, non perdere la calma. Vedete, non c'è por o por mui. È una frase molto semplice, molto lineare. Sempre per esprimere minor certezza o rilevanza utilizzo l'imperfecto succuntivo, ma in questo caso devo utilizzare la costruzione corretta. Quindi, por mui ciò che tu vi era di nero, non mi compraria un avion. Per quanto possa avere denaro, non mi comprerà un aereo. Ok? Preterito perfetto per esprimere una difficoltà o un'obiezione relativa al passato. Por mui ciò che le hai accostato, a mi non mi gusta. Per quanto le è costato, nonostante quanto le sia costato, a me non piace. Oppure utilizzo il preterito plusquam per esprimere la volontà di realizzare l'azione indicata al passato o al condizionale. Por mui ciò che mi hubiera gusto ad oire al confierto, non ubriaido. Nonostante quanto mi sarebbe piaciuto andare al concerto, non ci sono andato. Ok, adesso vediamo le consecutive. Sono frasi introdotte da No es che, oppure No es por che, oppure De hai che, oppure Por miedo de che, e così via. State attenti No es muy, più aggettivo Più che digamos Frequentemente esprime ironia Rafforzando un'affermazione appena detta. Vi faccio un esempio Tua ermana no es muy sobria Che digamos Tua sorella